Furto in appartamento a Montecchio Precalcino. I ladri tentano la fuga in auto, bloccati dai carabinieri che si sono lanciati a loro inseguimento. Due riescono a darsi alla fuga per i campi, mentre il guidatore viene fermato. Recuperata l'area furtiva a 300 euro in contanti e una macchina fotografica del valore di 1000 euro. In auto anche vari arnesi da scasso, arrestato un 35enne di origine albanese. La banda era entrata da prima in un appartamento mettendolo a suo quadro per poi tentare anche in quello comunicante, ma è scattato l'allarme costringendolo a fuggire. Grazie a tutti.